Come tutti gli anni è arrivato il Natale, quest'anno lo festeggerò a Martina Franca con la mia famiglia, ma qualche giorno prima, il 23 dicembre, sarò nella Basilica di San Martino per un concerto speciale, un concerto di beneficenza. La serata verrà presentata da Beppe Convertini, mio compaesano, e ci sarà la bravissima soprano Ongo Meri. Canteremo il Natale, lo faremo per una giusta causa, perché ricavato andrà all'orfanotrofio I Giardini del Congo di Padre Lorenzo. Ci vediamo, eh?